Buongiorno a TG1, apriamo con l'economia perché arrivano segnali negativi in giugno dal fronte del lavoro. Secondo l'Istat infatti la disoccupazione torna a salire e in crescita anche la disoccupazione giovanile, mentre il numero dei contratti a termine segna un record. L'Istat conferma poi il rallentamento della crescita perché nel secondo trimestre dell'anno il PIL è in aumento dell'1,1% su base annua. E il servizio è di Anna Scafuri. Torna a salire la disoccupazione. A giugno, segnala l'Istat, è al 10,9%, in crescita dello 0,2% rispetto al mese precedente. In aumento il numero di persone in cerca di occupazione, 60.000 in più. I disoccupati sono 2.866.000. Dopo tre mesi di crescita gli occupati calano di 49.000 unità, in particolare i dipendenti permanenti, mentre crescono quelli a termine. Sono 3.105.000. È il sesto rialzo consecutivo. A giugno poi ancora un minimo storico per l'inattività. Le persone che non hanno un lavoro né lo cercano scendono di 27.000 unità in un mese e sono in gran maggioranza donne. Cattive notizie anche sul fronte della disoccupazione giovanile ancora in crescita al 32,6%. Guardando al bilancio annuale, si registrano 330.000 occupati in più, con un calo degli inattivi e dei disoccupati. Crescono soprattutto i lavoratori a termine, ultra cinquantenni. Dall'Istat poi, la conferma del rallentamento della crescita del Paese. Nel secondo trimestre il PIL è salito dello 0,2% sul trimestre precedente e dell'1,1% su base annua. La durata dell'attuale fase di espansione dell'economia italiana prosegue da 16 trimestri. Ed infine un aggiornamento sui prezzi.